buongiorno e benvenuti nel mio canale in questo momento sto registrando contemporaneamente in due schermi per mostrarvi come si fa a proiettare uno schermo di un computer in un altro schermo attraverso la proiezione dello schermo stesso dunque ci sarà quindi un computer trasmittente e un computer ricevente andiamo nel computer ricevente si va sulle impostazioni app funzionalità facoltative in queste funzionalità facoltative bisogna andare su schermo wireless e con e vedere se sia installato se non fosse installato bisogna andare su install questa è la prima cosa da fare poi si va sul computer invece trasmittente e si apre l'applicazione connetti ovviamente parlo di computer windows credo che questa funzionalità esista fin dai tempi di windows 8 nel computer trasmittente si va sempre su start e si digita connetti come vedete connetta a schermo wireless si apre le impostazioni e come vedete si va su connetti qua chiaramente si può aprire anche l'applicazione omonima andando su connetti si sceglie il dispositivo su cui connetti in questo momento come vedete è stato rilevato il dispositivo laptop asus cioè l'altro computer quindi io ci clicco sopra e automaticamente riceverò la notifica della connessione sto per ricevere ecco la connessione quindi adesso vedete che c'è stata una condivisione dello schermo nello schermo per tante io posso consentire o meno l'input vedete io posso chiudere qua e magari aprire che so un'altra pagina e questa pagina si vedrà in questo schermo in questo schermo vedete qui posso disconnettere questo perché a che cosa serve la connessione la proiezione di uno schermo in un altro serve per appunto se un computer allo schermo che non funziona si può usare un altro computer in cui invece c'è lo schermo funzionante ma è meno potente oppure si può eventualmente duplicare uno schermo per visualizzarlo in un altro come in un altro computer eventualmente eliminiamo adesso la connessione andiamo su disconnetti adesso non c'è più connessione rifacciamo la connessione possiamo andare anche qua proietta e possiamo scegliere solo schermo duplica estendi o solo secondo schermo però essendo questo un tablet si va su connetti qua con il test che vuoi res connetti e si sceglie il laptop asus e come vedete ci sarà la proiezione dello schermo io posso consentire l'input tramite mouse e tastiera e il tocco appena oppure non consentirlo se io lo consento se io metto questa spunta io posso agire anche su questo altro schermo con il mio mouse per esempio posso magari come vedete il mouse si sposta anche su questo altro schermo si sposta su entrambi gli schermi posso magari chiudere qui e gestire direttamente il computer direttamente dallo schermo proiettante quindi posso aprire che so chrome dallo schermo proiettante proprio per poi scegliere magari di utilizzare la tastiera virtuale e digitare quello che mi pare direttamente dal dallo schermo proiettato nell'altro computer oppure posso anche utilizzare direttamente lo schermo del computer che sta proiettando questo modo dunque questa funzionalità al limite può sembrare un po' bizzarra però secondo me ci sono delle situazioni in cui può servire io ve l'ho mostrata chiaramente poi io quando qua in alto a destra su disconnetti come vedete posso si vede bene vado su disconnetti per disconnettere questi due dispositivi quando l'ho disconnessa chiaramente ci tornerà tutto alla situazione iniziale e io potrò riutilizzare il mouse del computer in cui è stato proiettato lo schermo per chiudere l'applicazione connetti e adesso come vedete ci sono nuovamente due schermi indipendenti l'uno dall'altro questo è tutto alla prossima volta grazie 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 grazie